Allora, Classico Italiano dedicherà la prima grande serata a un grandissimo uomo, Luciano Ricceri. Luciano Ricceri è stato quello che ha scelto la location di Scicchi per il commissario Montalbano. Venendo qui a Scicchi a ritirare questo riconoscimento, in che modo, con quale spirito lo fa lei Eugenia? Lo spirito è quello di ricordare mio papà, di cercare di continuare a stargli vicino il più possibile. Sono stata anch'io in Sicilia tante volte con lui in occasioni di lavoro, appunto, quando lui lavorava su Montalbano, per cui è un grande piacere per me ritornare in questi luoghi come Scicli, Modica e Ragusa Ibla e tutto il ragusano, per cui è anche un momento mio per ricordare quello che ho vissuto con papà, ecco. Quanto Ricceri c'è nel commissario Montalbano? Beh, tanto, direi tanto, perché da quello che so, Montalbano, più o meno, sono andati avanti per vent'anni, non so se sarà il 99 quando hanno iniziato, mi sembra.